Quindi quelli che non sono stati ancora vaccinati, non sono stati vaccinati soltanto perché non abbiamo le dosi. Ieri è arrivata una fornitura di Pfizer e quindi con questi ulteriori vaccini andremo a vaccinare tutte le persone che ancora devono essere vaccinate oltre a quantità. Ma io ripeto, basta guardare i numeri, noi siamo per gli oltre 80 anni, non la città è intorno al 60%, quindi stiamo rispettando e siamo anzi avanti rispetto a 80 anni. Sulla scusa, sì, scusa no, la prima scusa da parte del governo che non è riuscito a... E' sempre colpa di altro? No, non è colpa di altro. Ultima domanda.